Presidente Di Giovanni, con la Torrese appuntamento importantissimo nell'economia della stagione, la società ha scelto la giornata nero-verde, perché? Perché questo appuntamento deve essere un'occasione per riportare questa città in massa allo stadio. Ci sono partite che possono segnare una stagione, questa anche se forse non la si può considerare una partita decisiva, però sicuramente una partita importantissima e forse è la partita simbolo di questa stagione. Il Chiedela Torrese, a mio giudizio, sono le squadre meglio attrezzate per conquistare questo campionato e in ogni stagione ci sono delle partite che vengono ricordate per la loro intensità e per quello che ci si costruisce intorno. Io auspico che quella di domenica sia una sfida con queste caratteristiche, per cui un grande appello al popolo nero-verde che sa scaldare lo stadio Angelini forse come poche tifoserie in Abruzzo. Un appello alla presenza, un appello ad esserci, un appello a stare vicino ai colori della nostra società. Un'eventuale vittoria significa percorso in discesa? Un'eventuale vittoria significa aver fatto un altro gradino verso quello che è l'obiettivo di questa stagione, cioè la Serie D. Sta programmando già qualcosa a livello societario per il futuro, io la domanda gliela faccio sempre a Filippo Di Giovanni che vedo sorride. Beh dai Enrico, tu la domanda la fai sempre, oggi voglio sbilanciarmi un pochino, non ti nascondo che ci stiamo pensando.